Eh, dici che mi chiamai in videochiamata? Non la sento. Eh, ma ragazza, ti chiamo in videochiamata, rispondi. Eh, senti, ti chiamo in videochiamata, rispondi su WhatsApp. Guarda, ma ragazza, siamo in famiglia, che te ne frega? Ma come no, siamo in famiglia, dai, sono giù. Ok, amo ti chiamo. Sì, al momento è dello sfumante. Sì, apro il sfumante con tutti i guardi. No, ma la mia testa c'è, vi faccio vedere una ragazza. No. Sì, no, la prende. No, è quella la... Dove? Qua. Azza! Eh, come è bello! Ma, cambia, cambia, così hanno lo sfumante virtualmente. No, sì, la sfumante si è già fatto. È fatica. Ciao, c'è là. Ciao, Claudio! Ciao, Mary, sta a posto? Ma, direi che... Ma, lei, va, ci sono di buco un occhio. Claudio? Ma, pure, mamma... Ho detto, c'è una... Ma, lei, va. Ciao, Mary. Ma, ti andiamo a posto. Ma, mi chiede, ma, mi chiede, ma, mi chiede. Ciao, Mary. Ma, che ti è davanti? Ma, aspetta. Ma, aspetta. Oh, no. Non rompere le vite, le lo scasseghi. Vai. Mamma. Grazie, Mary. Grazie, Mary. E perché non ti voglia pa' vedere? È così verga. Non ti voglia pa' vedere? 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 Grazie a tutti.